Ciao Lucia! Oggi con questo breve video tutorial voglio farvi vedere come si crea questa piastrella. Riconoscerete sicuramente il punto, oramai è diventato mio tormentone. Devo dire la verità, mi avete chiesto la realizzazione della mattonella di questo punto. Come ricorderete non è un punto mio, c'è uno schema con un nome che non conosco in rete, su internet, dove con questo punto si faceva uno scialle, quindi lavorato in triangolare. Io ve l'ho sviluppato in tondo, quindi circolare, facendo il poncio sportivo, ve l'ho sviluppato lineare, troverete tra i miei video il punto sviluppato in linea, ed ora si aggiunge la piastrella quadrata. Mi hanno chiesto anche quella rettangolare, io mi fermerei a quella quadrata, perché sinceramente, altrimenti vi viene la nausea di questo punto, che sicuramente userò in qualche mio lavoro, perché mi piace particolarmente, ma mi fermerei alla piastrella quadrata, sinceramente. Quindi direi che adesso vi faccio vedere come si realizza questa piastrella. Prima però voglio dirvi, questa piastrella può essere ingrandita a piacimento, non ha un limite. Ci potete fare tovagliette, copertine, tovaglie anche più grandi, coperte da letto, quindi non per forza da bimbo, ma può essere usata anche come coperta matrimoniale. Veramente potete ingrandirla a vostro piacimento, quindi non ha un limite di giri. Bene, direi che proseguiamo con questo tutorial e vi faccio vedere come si realizza. Come avrete capito, io non sono un amante dell'anello magico, e quindi per partire io farò una semplice catenella, in questo modo. Allora, faccio una catenella che sarà l'equivalente del nostro anello magico e altre tre catenelle che saranno la nostra prima maglia alta. Quindi carico il filo sull'uncinetto, rientro appunto nella prima catenella che funge da anello magico e vado a fare una seconda maglia alta, seconda perché la prima è sostituita dalle catenelle. Una terza, una quarta e così via, fino ad arrivare a 16 maglie alte, contando anche ovviamente la prima sostituita dalle catenelle. Fate le nostre 16 maglie alte, non facciamo altro che chiudere il giro entrando nella terza catenella d'inizio e chiudendo con una maglia bassissima. A questo punto tiriamo un pochino la codina, si lascerà ancora ma tanto non è un problema perché andremo poi a fermarla sotto con l'ago e proseguiamo in questo modo, quindi tre maglie alte. Nella stessa catenella ne facciamo una seconda e quindi in questo stesso modo andiamo a fare un aumento per ogni maglia alta sottostante per arrivare ad avere 32 maglie alte. Quindi nella seguente di nuovo due maglie alte quella dopo di nuovo altre due maglie alte e così fino a quando non arriviamo a contarne 32. quindi anche in questo giro è arrivato a 32 maglie alte entriamo nella terza catenella d'inizio e chiudiamo con una maglia bassissima. Adesso iniziamo il vero e proprio motivo della piastrella quindi noi abbiamo fatto questi due giri vedete qui era ancora tonda adesso andiamo a renderla quadrata aggiungendo il motivo partendo dagli angoli poi si svilupperà tutto il resto attorno e quindi proseguiamo in questo modo tre catenelle che è la nostra prima maglia alta e altre tre catenelle di separazione carichiamo sull'uncinetto il filo e nella stessa maglia alta sottostante dove siamo partiti con le tre catenelle andiamo a realizzare una seconda maglia alta quindi questo qua sarà il nostro metà angolo di partenza quindi un punto V realizzato con maglia alta tre catenelle di separazione e maglia alta catenella saltiamo una e due maglie alte sottostanti entriamo nella terza con una maglia alta in quella dopo con una maglia alta e nella successiva con una maglia alta quindi questo è il blocco da tre del nostro motivo una catenella di separazione la catenella di separazione ci sarà sempre tra i punti V e il blocco da tre come nel giro successivo ci sarà tra i differenti punti quindi ricordatevi sempre la catenella qui l'abbiamo già fatta quindi saltiamo una e due maglie sottostanti e nella terza andiamo a creare il nostro secondo angolo maglia alta tre catenelle di separazione nello stesso punto una maglia alta e siccome dobbiamo farlo completo questo quindi non ci fermiamo a metà ma lo dobbiamo fare completo facciamo altre tre catenelle e di nuovo maglia alta sempre nello stesso punto quindi siamo andati a fare un doppio punto V con la maglia centrale in comune quindi catenella saltiamo sempre una, due nella terza andremo dalla terza in poi andremo a realizzare un altro blocco da tre quindi una due e tre catenella carichiamo il filo sull'uncinetto saltiamo due maglie e andiamo a fare il nostro terzo angolo scusate il nostro sì terzo perché il primo ovviamente non l'abbiamo finito quindi maglia alta tre catenelle rientriamo nello stesso punto facendo un'altra maglia alta di nuovo tre catenelle di nuovo nello stesso punto facciamo un'altra maglia alta per andare a fare la seconda parte del nostro angolo catenella saltiamo sempre le due maglie sottostanti nella terza un altro blocco da tre quindi una in quella successiva la seconda e nella seguente la terza maglia alta così abbiamo costituito il nostro terzo blocco da tre ora catenella sempre di separazione carichiamo l'uncinetto di nuovo saltiamo due nella terza andiamo a fare il nostro quarto angolo quindi maglia alta tre catenelle di nuovo maglia alta nello stesso punto tre catenelle di nuovo maglia alta nello stesso punto catenella carichiamo il filo di nuovo saltiamo le due maglie alte sottostanti nella terza andiamo a fare il nostro ultimo blocco da tre quindi nella terza in quella successiva un'altra maglia alta e in quella dopo un'altra maglia alta catenella di separazione ed ora andiamo a concludere il nostro primo angolo quindi vedete abbiamo due catenelle due scusate maglie alte sottostanti nella terza quindi la stessa dove abbiamo iniziato carichiamo e andiamo a farci una maglia alta quindi andiamo a fare la nostra metà angolo che ancora non era stata fatta tre catenelle e contiamo una due tre catenelle nella terza andiamo a ho preso un filo scusate andiamo ecco qua andiamo a chiudere con una maglia bassissima trovandoci già al centro del nostro angolo vedete era tondo adesso è diventata quadrata ora proseguiamo col secondo giro questa piastrella sarà sempre l'alternanza di questi due giri quindi vedete questi due giri iniziali di maglie alte scusate sono fuori questi due giri iniziali di maglie alte non verranno più fatti sono solo la partenza per avere il multiplo per partire poi col col motivo perché ho provato a non quindi a partire direttamente col motivo ma arricciava perché erano troppe maglie tutte insieme quindi andava comunque prima ingrandito messi pochi punti aumentato e dopo successivamente iniziato sopra il motivo e quindi questi due giri di maglia alta non verranno mai più ripetuti sarà sempre l'alternanza del primo e del secondo il primo e il secondo il primo e il secondo quindi sarà e questo motivo lo potete ripetere all'infinito non rimane bella la piastrella non si storta non si rimane bellissima quindi potete lavorarlo all'infinito quindi potete fare anche coperte grandi insomma anche delle belle cosine più grandi di una semplice piastrellina andiamo a vedere quindi come si svolge il nostro secondo giro partiamo con 3 catenelle che sarà la nostra prima maglia alta carichiamo entriamo nella primo punto di che ci troviamo quindi questo qui a sinistra e andiamo a fare al suo interno 7 maglie alte quindi 3 4 5 6 e 7 saranno 8 maglie alte con quella che abbiamo fatto al centro quindi sopra la maglia alta centrale ne avevamo fatte 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta quindi in totale sono 8 una catenella carichiamo il filo ed andiamo a fare una maglia alta sulla maglia alta centrale del gruppo da 3 quindi sulla seconda qui al centro facciamo una maglia alta una catenella entriamo di nuovo nel punto B e facciamo 7 maglie alte una 2 3 4 5 6 7 spostiamo un pochino quindi carichiamo una maglia alta sulla maglia alta centrale e di nuovo nel punto V a fianco andiamo a fare 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 6 e 7 vedete abbiamo fatto un ventaglio doppio l'angolo sarà sempre costruito con un ventaglio doppio prima avevamo il doppio punto V adesso abbiamo il ventaglio doppio e questo ventaglio doppio sarà costituito da 7 maglie alte nella prima V una maglia alta al centro e 7 maglie alte nella seconda V per un totale di 15 maglie alte facciamo una catenelle facciamo una catenella andiamo di nuovo a fare una maglia alta al centro del punto V quindi sulla maglia alta centrale mi sta scivolando ecco qui andiamo a fare la nostra maglia alta catenella di separazione e andiamo a ripetere di nuovo l'angolo poi un'altra maglia alta su questo lato di nuovo l'angolo e ci ritroviamo per chiudere l'angolo iniziale quindi siamo tornati all'angolo iniziale entriamo nella V nel punto V facciamo le nostre 7 maglie alte 3 4 5 6 scusate ero fuori ma tanto stavo contando non era una cosa 7 quindi contiamo le 3 catenelle entriamo nella terza e chiudiamo con una maglia bassissima e così abbiamo finito anche il nostro secondo giro vedete? sta iniziando a prendere forma da tonda l'abbiamo fatta diventare quadrata quindi adesso dobbiamo ripetere il primo giro ma lo ripetiamo insieme perché voglio farvi vedere ovviamente come si costruisce il primo giro sul secondo perché varia un pochino nel senso è la stessa medesima cosa però non partiamo più da una cosa circolare ma dobbiamo comunque andare a costruirlo sugli angoli quindi lo facciamo insieme partiamo sempre con 3 catenelle perché adesso dobbiamo andare a rifare i punti V quindi 3 catenelle che è la nostra prima maglia alta 3 catenelle di separazione carichiamo andiamo nello stesso punto a fare la nostra maglia alta per fare il punto V quindi 1 scusate e 2 quindi il nostro mezzo angolo catenella carichiamo cosa facciamo? contiamo 1 2 nella terza maglia sottostante iniziamo il blocco da 3 quindi 1 2 e 3 in questo modo di nuovo catenella ora andiamo sulla maglia singola che troviamo tra i ventaglietti e dobbiamo costruire un punto V quindi entriamo e facciamo la maglia alta 3 catenelle e di nuovo maglia alta in questo caso essendo al centro e non essendo un angolo il punto V sarà singolo quindi faremo solamente la maglia alta le 3 catenelle e la maglia alta ed è finito quindi diversamente dall'angolo ci fermiamo così quindi catenella contiamo 1 2 3 maglie del ventaglietto quindi sulla terza maglia alta su quella dopo maglia alta su quella dopo ancora maglia alta e quindi abbiamo fatto di nuovo il blocco da 3 al centro del ventaglio catenella contiamo 1 2 e 3 e se non abbiamo sbagliato i conti ci troviamo sulla maglia alta qui centrale e quindi dobbiamo fare un altro punto V doppio quindi maglia alta 1 2 3 catenelle di nuovo nello stesso punto maglia alta 1 2 3 catenelle di nuovo nello stesso punto maglia alta e quindi abbiamo fatto di nuovo il punto V sull'angolo catenella saltiamo 1 2 sulla terza maglia andiamo a fare una maglia alta maglia alta in quella dopo e di nuovo maglia alta di nuovo blocco da 3 quindi catenella di nuovo sulla maglia singola andiamo a fare un punto V singolo quindi maglia alta 3 catenelle stesso punto maglia alta quindi vi faccio vedere un altro angolo catenella contiamo 1 2 sulla terza maglia del ventaglio andiamo a fare la prima delle tre maglie del blocco da V la seconda in quella successiva e la terza ecco qua di nuovo catenella contiamo 1 2 nella terza siamo di nuovo al centro del ventaglio grande e quindi dobbiamo fare di nuovo l'angolo maglia alta 3 catenelle nello stesso punto maglia alta 3 catenelle nello stesso punto maglia alta catenella di nuovo 1 2 nella terza scusate sto facendo una maglia bassa invece di una maglia alta quindi nella terza o sulla terza che è più corretto 1 sulla quarta 1 e sulla quinta 1 quindi procediamo vedete in questo modo per tutto il giro quindi sull'angolo rifaremo la V doppia 3 maglie alte sui laterali la V singola di nuovo 3 di nuovo angolo maglia punto V doppio così fino a fine giro quindi arrivati all'ultimo blocco da 3 sul ventaglio dell'angolo abbiamo fatto l'abbiamo fatto il blocco da 3 catenella rientriamo nel punto di inizio facciamo di nuovo maglia alta 3 catenelle e ci congiungiamo all'altra scusate ci congiungiamo all'altra metà di punto V quindi sulla terza catenella di inizio con una maglia bassissima ora finito questo giro praticamente dobbiamo aspettate che allontano un attimo ecco qua dobbiamo ripetere semplicemente di nuovo il secondo giro allora partiamo insieme poi è facilissimo partiamo insieme solo perché vi faccio vedere su quelli centrali come dobbiamo intervenire però è assolutamente come abbiamo lavorato fino adesso quindi facciamo le 3 catenelle che è la maglia centrale sulla maglia centrale quindi nella metà angolo punto V di metà angolo facciamo le nostre 7 maglie alte 2 3 4 5 6 e 7 quindi vedete che è proprio come il primo giro che abbiamo fatto cioè il secondo scusatemi abbiamo fatto metà ventaglio dell'angolo catenella di separazione andiamo a fare la maglia singola al centro del blocco da 3 sottostante catenella ed ora nella V sul lato quindi non ad angolo ma quella che si costruirà sul lato andiamo a fare semplicemente 7 maglie alte quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 catenella di nuovo maglia singola al centro del blocco da 3 sottostante catenella e ci ritroviamo nuovamente sull'angolo scusate ogni tanto esco dall'inquadratura ci ritroviamo nuovamente sull'angolo ora dobbiamo andare a ripetere sempre questi due giri ora io ve l'ho fatto rivedere questo secondo giro semplicemente perché avevamo un elemento in più il punto V singolo ma non cambia niente sarà sempre punto AB doppio negli angoli 3 maglie alte blocco da 3 quindi sempre tutti i punti separati da una catenella di nuovo la doppia B nell'angolo il giro successivo sulla doppia B faremo 7 maglie alte 1 maglia alta al centro e 7 maglie alte maglia singola sul blocco da 3 di nuovo ripetiamo l'angolo in quello successivo non andiamo a fare altro che rifare i punti V e i blocchi da 3 con l'aggiunto ovviamente perché intanto la piastrella si va ingrandendo di conseguenza cresceranno i blocchi da 3 e i punti V sui vari lati gli angoli saranno sempre fatti nello stesso modo crescerà soltanto il numero di questi punti punto V e ventaglietto punto V ventaglietto oppure blocchi da 3 e maglia singola sui lati per il resto la lavorazione sarà sempre la stessa vedete andiamo ad aggiungere quindi il numero di punti laterali e gli angoli saranno sempre fatti nello stesso modo quindi io mi fermo qui con questo tutorial è stato abbastanza breve è semplicissimo questo punto da fare molto d'effetto molto bello particolare io vi ringrazio per essere state con me anche oggi vi mando un grosso bacio vi invito a venire a trovarmi sul mio gruppo facebook creando con luce franci un grosso bacio un ciao al prossimo tutorial grazie ciao da lucia